Io partecipo a queste manifestazioni innanzitutto perché mi fa piacere essere insieme con tutti voi ma anche per fare un po' la venditrice. E allora colgo lo spunto del cello e l'accendo che ha fatto Leo Freddi all'uso del web e a un tema a me carissimo che voglio dire tutti i radivinoni per informare tutti che la RAI è stata il primo servizio pubblico in Europa ad avviare un browser per la navigazione sicura su internet da parte dei bambini e credo che questo sia proprio una cosa importante che va nel sonco di consentire anche ai piccoli che ormai sono svelcissimi e abbiamo una nipotina di due anni e mezzo che già vuole toccare tutto, vuole fare tutto, vuole navigare Peppa la vuole vedere sullo smartphone perché lo vede negli ore che vuole lei e allora dice adesso io voglio vedere Peppa e schiaccia già il bottoncino però dobbiamo anche consentirgli un uso tutelato affinché sia veramente guidato le famiglie sono più tranquille, sono più sicure insomma volevo dirlo questo perché è poco conosciuto ma questo è anche un po' Leo cuore grazie le cose belle di RAI grazie